4 Giussi Petrotto E' stata una bellissima serata, sono molto contento perché abbiamo avuto tante difficoltà, ho avuto il tempo che per ora sapete tutti che non è stato cremente con tutti noi, quindi alla fine ci stiamo adeguati facendo dall'interno, le ragazze sono state professionali, la location in Meta Biorificio ci ha aiutato tanto, beh ora ci restano altre due tappe di selezione più la finale che sarà fatta il 30 giugno a Favara. Non me l'aspettavo, infatti ero messa dietro già quando ho sentito il nome di Melania, seconda classificata, ma non me l'aspettavo veramente, sono felicissima. Ed i prossimi appuntamenti con le selezioni sono il 15 giugno a Portempedocle ed il 22 giugno ad Aragona. Queste le ultime due tappe prima della finalissima provinciale del 30 giugno in Piazza Cavour a Favara. Lì saranno in sei ad essere selezionate ed a rappresentare la provincia di Agrigento alla gara regionale. Ed infine solo in quattro ragazze siciliane avranno accesso alla finale nazionale di Miss Universo Italy. Grazie a tutti.